buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 2 settembre 2024 iniziamo la giornata come sempre dando un'occhiata ai giornali il resto il carlino corriere adriatico sulle pagine locali abbiamo le notizie del weekend tra la cronaca che purtroppo non manca ma anche le manifestazioni perché settembre è un meno o meno ricco di eventi non è un mese meno ricco di eventi rispetto al mese di agosto poi vedremo quali sono invece i problemi per chi vorrà fare una vacanza nel nostro territorio in questo mese però prima di tutto passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia eccolo qui nella grafica è sant'elpidio abate disse nel quarto secolo beh possiamo dire che sant'elpidio è un santo marchigiano pur essendo originario della capadocia una regione della turchia una bellissima regione della turchia adatta agli anacoreti a coloro che volevano fare gli eremiti ebbene visse molto visse molto elpidio nel piceno dalla capadocia venne in italia si stabilì nelle marche dove addirittura alcune città portano il suo nome santo il pidio mare porto santo il pidio insomma è un santo molto venerato nella mar nelle marche del sud fu soprattutto un eremita fu una sceta che preferì vivere in solitudine in un'epoca in cui cominciava ad affermarsi il cenobitismo ovvero quella pratica che conduceva la vita dei religiosi in comunità era una trasformazione in atto comunque santo il pidio preferiva stare da solo e contemplare se stesso attraverso la natura e allora passiamo alle passiamo alle previsioni del tempo e vediamo che c'è in atto un cambiamento oggi si prevede instabilità in aumento con rovesci e temporali lo dicono le previsioni in modo particolare nel sud delle marche i venti sono in rinforzo con una temperatura che si eleva fino a 30 34 gradi mentre la minima si è attestata a 21 quindi il caldo ancora rimane i venti sulle coste espirano da sud ovest nell'entroterra da sud sud ovest il mare è leggermente mosso il sole sorto alle 6 e 30 tramonterà alle 19 e 43 e temperature sono stabili e vediamo che l'effetto del vento sul mare provoca onde con creste che cominciano a rompersi con la schiuma di aspetto vitreo dicono appunto le previsioni del tempo è un'immagine anche che ci fa vedere come il mare sappia riflettere in cielo secondo gli umori di quest'ultimo che appunto determinano poi anche le conduzioni le condizioni dell'umore degli uomini che vivono sulla terra ma questo è un altro discorso e allora noi passiamo a vedere le notizie del giorno a partire dalla prima pagina del resto del carino oggi lunedì insomma le edizioni dei giornali sono leggermente ridotte in modo particolare quella del resto del carino allora vediamo il sunto delle notizie che vengono ampliate nell'interno cominciamo dalla provincia di pesaro dove si è svolta dove si sta svolgendo la festa del partito democratico e ieri aveva una visita importante quella di ellish line tra folla e applausi salviamo la sanità ha detto la responsabile politica del partito democratico sapendo benissimo che il tema della sanità nella nostra provincia è un tema sensibile la segretaria del pd alla festa dell'unità ha incontrato anche d'alema e poi i consiglieri i volontari gli hanno suggerito lasciamo perdere matteo renzi ma il problema del campo largo comunque è un problema è un obiettivo diciamo meglio che la schline si prefigge per appunto dare più forza al partito democratico c'è anche il problema poi dei cinque stelle vediamo le altre notizie per hobby colleziono aerei da guerra e locomotive ebbene questo è un collezionista che non si limita a collezionare modellini ma vuole proprio questi oggetti in forma reale quindi quando parla di locomotive non parla di un trenino elettrico parla di una locomotiva vera e propria e addirittura si è messo in testa di ottenere una moto silurante a parte il fatto che ha avuto degli aerei che poi collezione e mantiene vicino appunto alla sua attività economica la vedremo dopo quando vedremo quest'articolo a fanno si è verificato un incendio di un'auto che ha provocato la chiusura della statale adriatica per due ore un problema di viabilità per fortuna questo incidente ha causato solo gravi danni ai mezzi ma non alle persone si è risolto abbastanza bene possiamo dire tra virgolette ma il problema della chiusura della adriatica in seguito a questi eventi che si ripetono costantemente durante i mesi è un problema da risolvere vediamo la pagina di ancona ad ancona si è svolta la festa del mare una festa da oscar tra fede e spettacolo ospite uno scenografo da oscar ovvero dante ferretti il gran finale si è svolto con i fuochi sempre uno spettacolo molto suggestivo il sindaco alla processione ancona un ponte tra i popoli si ancona con il suo porto è sempre stato un ponte che guardava verso oriente qui partivano i crociati qui partiva san francesco qui partivano i commerci e insomma ancona è stato sempre un punto di riferimento che guardava oltre i confini italiani guardava l'altra sponda e poi ancora oltre odissea in vacanza vi ricordate quei viaggiatori che erano stati abbandonati nell'isola portoghese di maideira ebbene la compagnia aerea la huizzer ora è pronta a rimborsare i passeggeri ci saranno rimborsi che variano dai 450 ai 500 euro a chiaravalle una notizia di cronaca borseggiatori scacco alla banda due denunce mentre ad ascoli piceno abbiamo ancora un incidente stradale scappa a castel di lama uno scooter travolge uno scooter e poi scappa caccia al pirata della strada un problema invece che investe tutta la regione marche è quello del prolungamento della stagione balneare di solito secondo il calendario prefissato la stagione dovrebbe terminare il primo di settembre ovvero ieri sono state poi deroghe concesse anche dei comuni come per esempio a fano che ha prolungato la stagione fino all'otto settembre ma poi in seguito i bagnini sono lasciati liberi di insomma di destagionalizzare come si dice l'offerta turistica locale il problema quest'anno è che così facendo i bagnini sono obbligati a mantenere il servizio di salvamento e questo crea difficoltà perché questa normativa è intervenuta a corso d'opera quando i contratti con il personale erano già stati firmati definiti e questi erano liberi di andarsene nei primi giorni di settembre quindi uno che volesse prolungare la stagione fino alla fine del mese o magari andare oltre perché il tempo lo potrebbe consentire si trova in difficoltà di riperimento delle personali e allora se veramente vogliamo che il turismo marchigiano sia fermi occorre trovare una soluzione a questo problema ancora vediamo che nel fermano nel fermano c'è un censimento istat che conferma come la popolazione di 14 comuni tiene e quindi è un dato positivo perché non c'è lo spopolamento che si teneva rinviate a giudizio rapinarono un distributore di benzina in due sono nei guai vediamo anche la pagina di macerata posti riservati al completo c'è una disavventura di una signora che veniva da ravenna si è fermata macerata con la mamma disabile per visitare la città ha cercato in vano un parcheggio libero tra quelli assegnati ai disabili non li ha trovati allora parcheggiato l'auto nelle strisce blu come è consentito fare però ha ricevuto la brutta sorpresa della multa e qui vedremo la disavventura di questa signora a belforte del chienti il sogno di elisa a dieci anni questa bambina a dieci anni ma salire sul palco insieme roberto bolla è il sogno di tutte le ballerine a questa età a porto recanati scatta l'allarme movida rissa tra ragazzi davanti al locale apriamo il giornale e vediamo allora l'articolo che riguarda la festa dell'unità di pesaro folla e applausi per la segreteria per la segretaria anzi del partito democratico ellie schlein la leader dei dem ha salutato tutti i volontari impegnati negli stand questa è la prima cosa che fanno i politici perché molte di queste cose si regono sul volontariato e non ci si deve dare tutto per scontato perché in realtà questo è un mettersi al servizio della città che costa a chi lo fa ma lo fa perché veramente ama la sua comunità ama la sua idea il principale è stato questo lascia perdere renzi è stato l'invito che il volontariato ha comunicato alla schlein poi l'apprezzamento al movimento 5 stelle per l'appoggio futuro dunque dunque non stiamo provando a riconquistare con umiltà pazienza e ascolto queste persone portando avanti i temi i valori che sono propri della sinistra ha detto la schlein il primo tra tutti è quello della sanità pubblica come abbiamo detto insomma il problema della sanità è molto sensibile nella nostra provincia dove continuano ad esserci ritardi per quanto riguarda le prestazioni sanitarie le visite c'è ancora tanta mobilità passiva insomma e poi insomma i servizi ospedalieri pronto soccorso in modo particolare sono sempre nell'occhio del ciclone vediamo anche un altro articolo che riguarda la festa dell'unità e che evidenzia la stretta di mano tra D'Alema e la schlein ricordo di Enrico Bellinguer mi sento molto solidale verso Elislein ha detto appunto D'Alema perché condivido il suo sforzo costante per costruire una alternativa larga che tenga insieme queste forze insomma poi D'Alema è stato intervistato dal giornalista del fatto quotidiano del resto del carlino Antonello Caporale ed ora diamo un'occhiata invece alla visita che la senatrice Ilaria Cucchi che è la sorella vi ricordate di quel Cucchi che è stato malmenato fino alla morte da parte di agenti carcerari visita al carcere di Villa Fastigi tutto precario ha riscontrato la senatrice Cucchi insieme ad Andrea Biancani ha fatto questa visita c'era anche l'assessore Sara Mengucci è una struttura ha detto la Cucchi che presenta diversi problemi e mancanze a cui gli agenti di polizia penitenziaria gli operatori e i volontari sopperiscono come possono purtroppo devo sottolineare ha aggiunto che ho trovato le condizioni del carcere del tutto invariate rispetto alla prima visita e non basta solo fare le visite come poi ha fatto un responsabile governativo proprio nei giorni scorsi occorre attuare provvedimenti affinché la situazione cambi perché con le visite ho riscontrato questo ricordo quest'altro però se non si fa niente la situazione non migliora allora diamo un'occhiata invece all'articolo di questo collezionista di cui ho parlato che colleziona un po' di tutto vedete che cosa collezione locomotive ed eccola qua questa è una locomotive in dimensioni reali non è un modellino addirittura un caccia f 104 che è a mezzaria all'ingresso della ditta bmg di cui il titolare è il collezionista si tratta di giacomo dini che aveva già destato una curiosità perché già in passato aveva dato segno di questa sua passione vediamo una domanda questa è un'intervista che maurizio gennari ha fatto appunto a dini dice gennari come si arriva alle vecchie locomotive a vapore uno che vuol fare la collezione di qualcosa perché da piccolo ha detto dini non ho mai avuto un trenino elettrico e così da grande mi sono tolto questa soddisfazione ci vuole veramente tanto tanto impegno per cambiare dalle dimensioni di un modellino alle dimensioni reali la sua passione ebbene passiamo ora all'incidente che si è verificato ieri sulla statale adriatica tra fano e fosso sei ore un drammatico incidente esce di strada e l'auto si incendia il conducente però riesce a salvarsi la vettura era alimentata a gpl ecco perché era molto pericoloso quanto accaduto era guidata da un senegalese di 25 anni che ha tamponato un suv mentre effettuava una manovra e questo è un fatto che si ripete spesso purtroppo quando sulla statale un'autovettura fa una manovra se non la fa con una grande grande attenzione corre il rischio di provocare un incidente sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso alla polizia locale e la strada rimasta chiusa per due ore un articolo invece che riguarda pesaro a fondo pagina riguarda una benemerita iniziativa fatta da alcuni bambini e raccogliere rifiuti di corsa e beh questo potrebbe essere non solo un'attività di volontariato ma addirittura si è trasformata in un'attività sportiva vera e propria hanno raccolto 46 kg di rifiuti in appena un'ora nella zona mare praticando il plogging questo è il nome di questo nuovo sport il plogging è una disciplina che coniuga la corsa ma anche la camminata con la raccolta dei rifiuti e beh insomma si è trovato un po' di tutto per incentivare i cittadini ad avere un maggiore senso civico e pensate qual è la natura dei rifiuti che più si è riscontrata per terra sono le cicche delle sigarette perché continuano i fumatori a fumare e poi buttare le cicche per terra questo è un comportamento che oggigiorno non viene più tollerato una volta era abituale c'era chi andava in macchina abbassava il finestrino buttava la cicca per terra e chi si è visto si è visto in realtà ci vogliono veramente ci vuole tanto tanto tempo perché quella cicca poi si disgreghi e si annulli e quindi occorre tenerla per poi gettarla nel cestino dei rifiuti con tutte le precauzioni perché poi la cicca sia veramente spenta vediamo ancora le notizie abbiamo qui la festa del mare di ancona ancona è un ponte tra i popoli l'abbiamo detto è il da cosilvetti presente ieri alla tradizionale processione vediamo anche i fuochi artificiali che hanno animato la festa ferretti il grande scenografo un pomeriggio da oscar e qui abbiamo la turista disabile multata auto sulle strisce blu l'ausiliario non fa sconti però la signora farà ricorso alla prefettura allora diamo un'occhiata ora al corriere adriatico dove l'apertura su fano è dedicata ad una iniziativa che si è svolta l'altra sera a tre ponti dove si sono riuniti i cacciatori in procinto di iniziare la stagione venatoria che poi è iniziata nella giornata di ieri in preapertura perché poi invece quella ufficiale scatta il 15 di settembre qui il più bel calendario venatorio delle marche il presidente regionale della federcaccia paolo antonioni esalta la decisione del tar che questa volta sul ricorso degli ambientalisti non ha concesso la sospensiva quindi è un obiettivo che i cacciatori hanno raggiunto hanno raggiunto finalmente secondo loro insomma ottenendo quello che volevano che si decidesse fare allora quest'anno noi delle marche abbiamo il più bel calendario venatorio lo ha detto paolo antonioni in questa riunione a cui erano presenti anche il presidente nazionale della regione marche massimo buconi c'era anche il deputato antonio baldelli e l'assessore regionale stefano aguzzi a fronte delle ricorrenti critiche che il calendario venatorio suscita la parte dei cacciatori quest'anno invece la valutazione è stata ben ben diversa e qui vediamo questo articolo poi come si articola il calendario venatorio quali sono le specie cacciabili in preapertura che cosa è cacciabile poi durante l'apertura della caccia ufficiale in termine della quale è stato fissato al 31 gennaio prossimo per tutte le specie e soprattutto l'impegno che i cacciatori hanno assunto nel trovare un accordo con i loro così li chiamano alleati ovvero gli agricoltori perché il problema delle culture si scontra molto spesso con l'invasione della selvaggina stanziale come quella dei cinghiali oppure quella migratoria insomma le culture sono sempre a rischio a causa della presenza della fauna e poi ieri si è svolto invece un evento importante a Fano perché si è svolto un raduno di oltre 300 vespisti provenienti da diverse regioni d'Italia in modo particolare da diverse località delle Marche ma anche dalla Sardegna dall'Umbria dall'Emilia Romagna dalla Lombardia e addirittura anche dal Trentino Alto Adige da Trento dove un vespista con la sua vespa ha percorso tutto l'itinerario fino a Fano e pensate che il più anziano vespista ha 86 anni che ancora guida con tanta sicurezza il proprio mezzo è stato un raduno importante perché è stato un modo per promuovere la nostra città i vespisti che hanno preso il via dal Lido di Fano hanno poi visitato tutta l'area portuale alcuni sono andati a fare un giro nell'entroterra sono andati su nelle colline di San Costanzo di Mondolfo hanno visitato il museo della batteria di Bellocchi e poi tutti sono convenuti a tre punti per il pranzo sociale dunque una bella iniziativa organizzata dal club Vespa di Fano presieduto da Fabio Pizzichelli. Qua invece vediamo il resoconto dell'incidente che si è verificato sulla statale adriatica schianto sulla statale autofuoco conducente per fortuna illeso adriatica chiusa ma a proposito della caccia vediamo che insomma il primo giorno si è verificato il primo incidente ebbene un cacciatore è precipitato in un dirupo per 50 metri ed è stato salvato dall'intervento dell'elicottero alle 11.45 di ieri mattina Marco Bianchi 54enne di Colli al Metauro è rimasto gravemente ferito in assetto di caccia nei pressi di Isola di Fano che è una frazione di Fossombrone aveva abbattuto un colombaccio e per recuperarlo si era sporto in un costone roccioso che costeggia il fiume Tarugo ebbene ha messo un piede in fallo e precipitato rovinosamente per una cinquantina di metri ebbene è stato recuperato con il verricello dell'elisoccorso ed è stato trasferito all'ospedale di Torrette di Ancona quindi non si finisce mai di ripetere gli appelli alla sicurezza alla prudenza per tutti i cacciatori sia nei confronti di se stessi che nei confronti degli altri giriamo la pagina passiamo a Mondolfo dove si svolta una bella iniziativa a Marcord perché si sono rievocati i fatti le situazioni le immagini di tanti anni fa con filmati che hanno preso avvio dal 1938 agli anni 70 tanta musica dal vivo e anche tante immagini e tanti rimpianti perché insomma quando si era giovani si vedevano le cose in un altro modo e quello che si vedeva è stato riproposto appunto con foto e immagini d'epoca metodo Montessori classe in più alla primaria ebbene un bello risultato per Fratterosa che dove nell'istituto comprensivo Gagliano Binotti che è diretto da Silvia Faggi Grigioni una direttrice una preside che insomma è stata a lungo anche a Fano ha avuto l'incremento per il nuovo anno scolastico delle scuole delle classi della scuola primaria con il metodo Montessori un metodo che ancora oggi viene molto molto apprezzato quindi sono delle classi in più grazie appunto a questa attività didattica a Senigallia la visita assegnata è troppo lontana ebbene scatta il piano B sono le liste di garanzia dell'Ast insomma l'Ast cerca di venire incontro a tutte le difficoltà che incontrano gli utenti che hanno bisogno di prestazioni sanitarie che non le trovano nella loro provincia e quindi vengono così segnalati in una speciale lista che dovrebbe avere la priorità per quanto si guarda e per quanto riguarda la liberazione di alcuni posti e questo è un modo per cercare di risolvere un problema che purtroppo ancora persiste e chissà se si riuscirà a risolverlo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti